Il bonus affitti giovani 2022 è una detrazione d'imposta per i primi 4 anni di contratto che può essere richiesta all'Agenzia delle Entrate. I requisiti necessari sono giovani con età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, contratto d'affitto di un'intraibitazione o di una stanza e non deve essere nello stesso stabile dei genitori. ISEE è inferiore a 15.493,71 euro. Il bonus affitti giovani 2022 è pari a 991,60 euro. Nel caso in cui tale cifra venga superata è possibile richiedere la detrazione del 20% del canone di locazione per un massimo di 2.000 euro.